Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video prima di iniziare vi ricordo lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuissimo aggiornamento medio inoltre vi ricordo che è ben il 77% di voi guarda i nostri video ma non è scritto per voi un piccolo gesto ma per noi è di fondamentale importanza per migliorarci e portare nuovi contenuti iscrivetevi è gratis detto questo andiamo a vedere la prima tendenza per il periodo pasquale iniziamo a vedere la situazione in questo momento dove aria molto fredda scenderà poi verso i balcani portando anche un'azione termica sulla nostra penisola che è già presente nuova risalità delle temperature soprattutto sulle regioni spagnole e francesi anche su quelle italiane soprattutto su Sardegna, Sicilia e Puglia in generale comunque sulle regioni centro-meridionali poi andiamo a vedere come andrà la situazione perché sembra che il vortice polare si inizi un po' ad agitare proprio a inizio di aprile con anche l'arrivo di un minuto depressionario che andrebbe a richiamare dell'aria molto generale di origine scandinava scandinava che scenderebbe verso il nostro paese ovviamente perdendo un po' di intensità perché siamo in una fase molto fuori della stagione per un'irruzione di aria fredda di questa intensità che dovrebbe iniziare a farsi vedere a partire dal 3 di aprile quindi proprio nei primi giorni e poi potrebbe accompagnarci questa riscesa di aria fredda per tutti i primi 10 giorni di aprile poi possiamo poi vedere anche da queste immagini questa aria fredda si andrebbe a spostare verso la spagna non raggiungendola perché ormai si è andata a sfare l'intensità dell'aria fredda andando avanti come possiamo vedere proprio per il periodo pasquale quindi il 9 di aprile questo ovviamente è solamente per darvi un'immagine non dovrebbe esserci una grande situazione di miglioramento quindi dovremmo rimanere con una fase non molto calda anzi abbastanza fresca e con possibili precipitazioni per ora non è ancora niente di certo per quanto riguarda Pasqua ma sicuramente sappiamo che l'aria calda inizia a farti spingere e come proprio possiamo vedere da queste immagini in basso a destra dove vicino alla Turchia potrebbero già arrivare termiche a 1500 metri di oltre ben 16 gradi quindi aria molto calda che è vicina all'Italia ma per ora sembra dagli ultimi tendenzi arrivare una nuova irruzione d'aria fredda stavolta anche più potente che potrebbe portare le temperature a di sotto delle medie salionali di oltre ben 8 gradi vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento metri